il focus è noi lavoriamo su un territorio per lo sviluppo locale o per il bene comune e chi c'è c'è chi c'è fa è ovvio che in questo contesto le immigrazioni se ben contestualizzate sono un supporto in più è una risorsa si pensa sempre alla logica predatoria rispetto all'immigrazione vengono qua a portarci via lavoro i soldi via dicendo non è vero qua non si porta via niente qui arriva qualcosa invece di tenerlo separato dobbiamo pensare di metterlo al sistema e far sì che ci sia una gamba in più nel tavolo di sviluppo locale che ti sorregge questo gamba in più potrebbe essere l'immigrazione quali sono i bisogni del nostro territorio quali sono le risposte e le risorse che ci sono magari non c'è niente magari invece c'è una risposta ma la risorsa la torina di migrazione se non c'è quello non è la risposta e non contribuisce su quel territorio il bene comune Piam sta per progetti integrazione accoglienza migranti è un'associazione onlus che è nata nel 2000 abbiamo iniziato occupandoci di tratte e prostituzione donne vittime di sfruttamento sessuale ragazze che normalmente si vedono sulla strada nigeriane albanesi rumene e abbiamo aperto così le prime la prima casa accoglienza per donne vittime di tratte nel tempo questa attività è cresciuta molto e da una piccola casa abbiamo strutturato dei progetti facciamo parte della rete antitratta nazionale facciamo unità di strada usciamo andiamo per strada contattiamo le donne diamo le informazioni sociosanitarie accompagniamo a fare gli screening medici e poi c'è tutta la parte di sgancio dallo sfruttamento perciò le case potette le case di fuga riconoscimento di documenti l'accompagnamento verso l'autonomia lo staff l'equipa antitratta che abbiamo è composto 80% da ex vittime di tratte che sono diventate operatrici e lavorano nei progetti si prendono il cuore di altre donne tre di queste sono nigeriane perciò è stato anche abbastanza facile e naturale andare più dopo in nigeria riproporre questo tipo di di attività che facevamo qua nei bordelli di benin city di legos e di altre cose in questo momento sta dando l'accoglienza circa 170 persone fa maschi singoli nuclei monoparentali madre con bambini famiglie e donne ritenuncibili alla tratta e nel tempo anche poi nei piccoli paesini in cui abbiamo lavorato in cui abbiamo le altre accoglienze più piccole ma molto eradicate nel territorio abbiamo sempre ragionato su come contestualizzare la nostra presenza nei territori perciò non ragioniamo neanche più tanto di accoglienza ma quanto di sviluppo locale e la nostra funzione è quella di capire i bisogni del territorio interfacciarli con i bisogni e le risorse che porta l'accoglienza con questo pensare qualcosa di diverso il primo passaggio è stato quello di recuperare villa quaglina la villa padronale del 600 molto bella le porte di asti che era stato donata da una famiglia nobiliare a una congregazione di di preti quel locale con sei ettari di terreno progressivamente è stata abbandonata negli ultimi 12 anni è rimasta chiusa quando nel 2014 a maggio arriva l'annuncio che ci sarebbero stati l'arrivo di ulteriori 55 60 rifugiati quel casale a villa quaglina aveva dei requisiti minimi per quella per quella situazione l'abbiamo pulito in fretta e fui ha montato una cucina da campo veloce è arrivato il primo pullman erano quasi tutti siriani qualche ritro e da lì non siamo più andati via da un posto disabitato diventato un centro di vita molto grosso abbiamo assunto personale abbiamo fatto iniziative fra le cose più belle che abbiamo fatto sicuramente che abbiamo poi recuperato quella che era l'utilizzo originario dell'area che era un'azienda agricola abbiamo iniziato a coltivare la terra abbiamo recuperato un vieto storico e soprattutto abbiamo piantato il maes sottofile la migliore varietà di maes qua del nord ovest che nessuno più fa per capocaresa e siamo diventati fra i più importanti produttori di maes sottofile adesso abbiamo anche fatto dei prodotti poi dopo di fare con i grani farne antiche noi abbiamo i migliori ristoratori qua della stigiano che vengono e prenotano la nostra farina perché è un prodotto d'eccellenza allora dall'accoglienza tu puoi fare delle cose di eccellenza e di lusso siamo stati fra i primi in italia sulla tratta avere le case d'accoglienza per la mamma bambino e poco per volta abbiamo iniziato a capire che dovremmo occuparci anche l'educazione di questi figli e soprattutto accompagnamento alla generizzabilità di queste donne ormai sono un anno e mezzo che abbiamo acquisito questo lago a castellero questo lago stella un bel lago con una bella area e abbiamo deciso di fare un parco per delle biodiversità animali il lago il palco stiamo parco gioco didattico abbiamo già anche proposto delle giornate laboratoriali per bambini che vengono con gli educatori che fanno un po' la filosofia quella dell'auto education con e insieme anche come perché perché no con i bambini con i figli nella nostra comunità poi dopo villa quaglina è diventata la centro accoglienza profiga anche poi dopo la sede ufficiale dell'associazione alzheimer di asti facciamo le cose congiuntamente e quando prendiamo il lago stella castellero che ha 15 asini e l'asino per l'orinoterapia è un ottimo strumento terapeutico anche per per bambini autistici con disturbi dell'apprendimento ma anche per malattie dell'azienda una delle cose divertenti chi è che mantiene cura gli asini e affianca al terapeuta sono rifugiati che lavorano in stalla e che diventano poi dopo la lo strumento di benessere il tuo familiare anche lì dici dove vado a star bene vado in un centro ad accoglienza profughi perché voglio star bene e li sto bene e mi cuo chi l'avrebbe mai detto l'Italia che cambia è quella che recupera il buon senso l'Italia che cambia dovrebbe trovare quella 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 sguaiata voglia di fare delle cose divertendosi e in maniera anche un po buffa ma ma di pancia vera non calcolata quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi